Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale Paura per un incendio che si è sviluppato in una terrazza di un albergo sul lungomare di Pesaro fatta evacuare tutte le persone all'interno non ci sono stati feriti Per la sanità fanese oggi è il giorno del faccia a faccia col presidente della regione Luca Cerescioli Tra poco in collegamento le ultimissime Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Un cordiale saluto a tutti voi cari telespettatori di Fanno TV benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Apriamo con la cronaca Andiamo a Pesaro per parlarvi di un incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di oggi intorno alle 17 nella terrazza dell'hotel Cruiser in Viale Trieste nel lungomare di Pesaro Le fiamme si sarebbero sprigionate a causa di un cortocircuito all'impianto di condizionamento e hanno interessato le camere del piano sottostante dove si trovavano in quel momento alloggiati alcuni tatuatori appena rientrati da una convention all'expo di Campanara uno di questi atteso di poter rientrare a prendere gli effetti personali in camera seduto in un bar adiacente all'albergo coperto con addosso una coperta altre alle operazioni di spegnimento hanno preso parte diverse squadre di vigili del fuoco di Pesaro che hanno lavorato fin verso le 19.30 per mettere in sicurezza tutto l'edificio in queste ore i vigili del fuoco i rabinieri stanno facendo un sopralluogo le valutazioni tecniche del caso da presentare al magistrato immancabili anche i curiosi soprattutto giovani muniti di cellulari ed ad immortalare da ogni angolo possibile le scene dell'incendio che per fortuna come dicevamo non ha provocato feriti e le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco effettuate a una ventina di metri d'altezza e sentite come Nelly Campanelli che è con lei che gestisce l'albergo ha spiegato raccontato quali sono state le cause di questo incendio c'è stato un cortocircuito nell'impianto elettrico un'impianto curta che è un'unità di condizionatore un condizionatore d'aria e quello esternamente sul tetto ha avuto un cortocircuito e ha creato una fiamma però è stato circoscritto quella zona sono passati gli allarmi c'è stato l'intervento immediato dei vigili del fuoco che abbiamo comunque voluto chiamare il problema si è risolto in pochissimi minuti Dunque fiamme circoscritte semplicemente sulla terrazza dell'albergo Adesso chiamiamo argomento mentre vi stiamo trasmettendo il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli è nella sala del consiglio comunale a Fano dove si stanno svolgendo dove si sta svolgendo la seduta monotematica sul tema scottante della sanità A seguire i lavori per noi c'è Lino Balestra che è collegato in questo momento in diretta Buonasera Lino allora dici tutto quello che è successo sin qui Buonasera Marco buonasera cari telespettatori Luca Ceriscioli e il suo staff sono arrivati intorno alle 18.35 ad accompagnarlo con lui anche Carmine Di Bernardo il direttore di Area Vasta 1 e Maria Capalbo la neodirettrice di Marche Nord ad attenderlo una sala consigliare gremita di non solo consiglieri e amministratori ma anche di tanti operatori sanitari e anche tanti medici noi prima che lui entrasse nella sala a tenere la sua dichiarazione lo abbiamo fermato e gli abbiamo fatto qualche domanda prego la regia di mandare l'intervista con il presidente della regione Marche l'esigenza più importante credo sia riportare quello che è il dibattito su aspetti molto importanti per la salute dei cittadini dei nostri territori su binari che non sono quelli chiamiamo della sfiducia della disillusione dopo tantissimi anni di attesa in processo infinito ma quello di ricostruire proprio le ragioni di quel percorso e fare in modo di trovare la strada per poterlo realizzare quindi recuperare chiamiamo un senso che il tempo ha logorato inevitabilmente portando tutti quanti a preoccuparci e chiederci quale può essere il futuro invece di scoprire il valore di una scelta strategica che rimane ancora oggi estremamente importante e trovare l'occasione per ragionare insieme per poterla ribadire e appunto ritrovare le ragioni di quel percorso ecco ci sono due punti importanti nella mente dei fanesi sono il punto nascita e la sede di Chiaruccia quali muove su questi aspetti la sede di Chiaruccia è la proposta che già allora venne fatta dal consiglio comune di Fano insieme a Fosso Seggiore così come Muraglia Case Bruciate Fosso Seggiore Villa Fastigi furono le proposte allora del consiglio comune di Fano vanno vissute così cioè devono essere messe su un tavolo poi verificate e confrontate i punti nascita sono un aspetto processuale cioè abbiamo fatto il primo passaggio di chiudere alcuni c'è un riassetto poi ce ne saranno altri poi riassetti preoccuparci oggi di quello che è magari un tema che ci impegnerà fra due anni e mezzo dove potremmo scoprire che magari uno siamo già verso una costruzione nuova e non abbiamo l'esigenza di decidere dove metterlo perché sappiamo già dove va a finire o ancora di più che attraverso determinati percorsi hai la numerosità sufficiente per mantenere di entrambi mi sembra veramente come dico volere a tutti i costi anticipare un dibattito sul futuro quando invece è importante costruirlo quel futuro dando quella risposta sulla qualità sui servizi per i cittadini del nostro territorio che se la meritano una cosa che è venuta fuori nelle dichiarazioni a stampa è stato il velocità sulla quale questa delibera è entrata in campo questo ha creato qualche problema sì anche perché la delibera ancora non è delibera è ancora un più problema insomma normalmente si facevano le delibere e si doveva aspettare due anni non succedeva niente qui non l'abbiamo ancora fatta già si sono visti gli effetti insomma diciamo va registrata questa velocità in maniera giusta che non sia perdere il tempo menare il camperlaia ma neanche precorrere quelle che sono decisioni ancora da prendere ecco queste erano le dichiarazioni a botta calda del presidente considerazioni che poi lui ha tenuto anche nella sala consigliare i lavori li ha aperti la presidente Rosetta Fulvi subito accogliendo insomma colui che ha preso il posto di Maria Antonia Cucuzza il nuovo insomma colui che ha preso il suo posto Mirisola dopodiché è stata la volta del sindaco Massimo Seri che ha ribadito punto per punto alcuni concetti chiave del percorso che ha portato fin qui e ha naturalmente fatto sì che questo doppio incontro tra Ceriscioli e Seri avvenisse proprio per chiarire alcuni punti lui ha ribadito che Chiaruccia è il sito da lui indicato non per una questione campanellistica ma perché secondo lui è baricentrico il bacino di utenza di Fano e dell'ospedale di Fano è di 130 mila abitanti considerando tutto l'Interland dopodiché ha detto che vorrebbe da subito risposte chiare e che sarà lui il primo a prendere iniziative forti se queste risposte non arriveranno a brevissimo tempo ha anche detto quelle che sono le sue oltre a fare una naturalmente disamina di tutta la vicenda a partire dalla creazione di Marche Nord ha voluto ribadire e fare delle proposte le proposte sono state quattro lui ha chiesto subito di attivare tutte le scelte che sono state interrotte a suo tempo perché hanno portato appunto a far sì che ci fosse la creazione di Marche Nord poi vorrebbe la messa in sicurezza dei pazienti attraverso due cose una cardiologia H24 con dei posti anche letto per gestire le emergenze una chirurgia anche questa H24 per far sì che gestisca le emergenze provenienti da altri reparti perché lui ha detto chiaramente che un ospedale senza una chirurgia d'emergenza una chirurgia pronta ad accogliere alcune situazioni che si possono creare anche negli altri reparti è un ospedale destinato a morire e poi la quarta naturalmente anche riservare dei posti nel vicino reparto di oncologia a Muraglia e poi naturalmente un appunto sulla pediatria lui lo ha fatto Seri ha detto che Fano ha una vocazione in pediatria c'era l'ospedaletto naturalmente dei bambini proprio poco distante dall'ospedale Santa Croce e quindi la vocazione per il punto nascita è quella destinata a essere un nostro importante però avete sentito dalle dichiarazioni di Ceriscioli all'inizio proprio stimolato insomma su questo aspetto che è un problema che insomma rimanderà più in là perché non lo ritiene urgente però questo sarà un tema ancora caldo per i prossimi mesi a venire bene ora mentre noi vi parliamo nella sala consigliare si tiene il dibattito si è aperto il dibattito e i lavori dureranno ancora per diverse ore io restituisco la linea allo studio grazie bene grazie Lino Balestra Ceriscioli insieme al consigliere regionale Federico Talè ieri mattina ha incontrato anche Ivan Cottini il modello malato di sclerosi multipla che per protestare lo ricorderete contro il piano di riordino degli ospedali dell'entroterra aveva venerdì scorso bruciato per appunto protesta i suoi farmaci aveva sospeso le cure e bruciato i medicinali di fronte all'ospedale di Sasso Corvaro Ivan Cottini l'ex modello affetto da sclerosi multipla che venerdì scorso era sceso in campo per protestare contro la riforma sanitaria regionale una voce la sua che è stata ascoltata anche dal presidente della regione Marche Luca Ceriscioli che domenica si è recato a casa di Cottini a Montemaggiore al Metauro accompagnato dal consigliere regionale Federico Talè con una firma e una stretta di mano il governatore ha promesso di tutelare il diritto alla salute e ripristinare tutti i servizi negli ospedali dell'entroterra con Ivan ci siamo rivisti era un po' che non ci vedevamo siamo molto amici è stato molto bravo anche il presidente Ceriscioli si è reso disponibile è rimasto favorevolmente impressionato da Ivan e dall'energia che Ivan sprigiona quando si parla di sociale e quindi abbiamo rasserenato in qualche modo Ivan che le cose stanno andando abbastanza bene naturalmente c'è bisogno di una riforma sanitaria a livello regionale le cose non stanno andando come dovrebbero andare ed è anche per questo che i cittadini ci hanno votato sei mesi fa nella delibera fatta il 22 dicembre prosegue il consigliere c'erano due cose che non andavano bene la prima era quella della lungodegenza che andava a sparire a favore delle cure intermedie la seconda molto più grave era relativa ai punti di primo intervento previsti solo per 12 ore al giorno per questo in commissione sanità di cui fa parte anche tale si sono battuti per riportarla ad H24 una volta modificata la delibera prosegue non ci dovrebbero più essere problemi per il pronto soccorso negli ospedali dell'entroterra e a quel punto alla protesta dei cittadini preoccupati per il futuro della sanità ci potrebbe stare ma non quella a livello politico l'ospedale di Cagli di Sassocorvalo e di Fossombrone i tre ospedali non verranno assolutamente chiusi e i punti di primo intervento saranno H24 con tre medici un medico ospedaliero un medico del 118 e un medico della continuità assistenziale quindi della guardia medica se la promessa poi non verrà mantenuta Ivan Cottini è pronto a dare di nuovo battaglia intanto dopo aver sospeso i farmaci da due giorni ha ripreso a curarsi e ad assumere vitamine ma non senza conseguenze il testimonial di AESM infatti come racconta in un video pubblicato sui social era così debole che non riusciva nemmeno a prendere sua figlia in braccio ma se da una parte può ritenersi soddisfatto per l'esito dell'incontro con Talè e Ceriscioli dall'altra è rimasto deluso dalla poca partecipazione alla manifestazione di protesta avvenuta in piazza Rubino durante la conferenza dei sindaci di Aria Vasta ma la sanità è un problema che riguarda soltanto i vecchi o riguarda tutti o sono solo io l'interessato lo sfigato che ha 28 anni è interessato alla sanità perché sta male i giovani che devono cambiare il mondo che devono essere le persone più incazzate che vanno lì che vogliono spaccare tutte e cambiare le cose di questo mondo che non va bene dove erano oggi? sono molto arrabbiato purtroppo sono molto arrabbiato perché credo che così le cose non cambieranno mai e ogni giorno che passa sarà sempre pezzo per me e per tutti e sulla sanità ha voluto dire la sua oggi anche il consigliere del Movimento 5 Stelle di Fano Adaro Miccioli Il Movimento 5 Stelle concorda con l'ordine del giorno presentato dal sindaco Seri? No eventualmente solamente per una parte in effetti questo documento ha un'incongruenza secondo noi di fondo molto importante da una parte chiede la realizzazione dell'ospedale unico e quindi in pratica poi la chiusura dell'ospedale di Fano e degli ospedali limitrefi dall'altra invece chiede la difesa e la riqualificazione dello stesso ospedale di Fano sia ben chiaro i soldi per tutte e due le cose non ci sono bisogna fare una scelta e noi ci chiediamo in realtà oggi appunto questi cosiddetti paladini della difesa del Santa Croce dove erano e dove sono il PD e Seri erano con spacca al governo della regione a favore dell'ospedale unico e oggi sono ancora con Ceriscioli in regione a favore dell'ospedale unico e ci chiediamo anche il centrodestra che oggi vota addirittura a favore questo documento del sindaco dove era? Era per dieci anni alla guida della nostra città proprio questi dieci anni che hanno visto il depotenziamento del nostro ospedale Santa Croce beh, io dico che fin dall'inizio ripeto fin dall'inizio il Movimento 5 Stelle invece ha fatto una scelta di campo e cioè no all'ospedale unico e sì invece a una riqualificazione riorganizzazione dei servizi sanitari nelle strutture esistenti In questi giorni siete stati anche attaccati dall'opposizione fanese che cosa rispondete? Beh, ci hanno definito degli responsabili o quelli che strumentalizzano questo argomento noi a casa nostra in realtà questa la chiamiamo coerenza e pensiamo che la nostra proposta sia in realtà una proposta reale fattibile per un discorso di una sanità completamente nuova che si avvicina ai cittadini nei territori Adesso parliamo del maltempo perché ieri è arrivata la neve anche sulla costa seppur per brevissimo tempo un'oretta in tutto nella mattinata di domenica poi una seconda parte anche nella serata di ieri dunque mezza provincia imbiancata mezza perché di fatto l'entroterra quello più verso gli appennini è rimasto a bocca asciutta Freddo, gelo e primi fiocchi nelle Marche come anticipato nei giorni scorsi le temperature sono scese sotto lo zero termico ed è arrivata la neve sul litorale ma senza creare particolari disagi alla circolazione i mezzi spargi sale della provincia si sono messi in azione fin dalla giornata di sabato per prevenire anche la formazione del ghiaccio che rimane il vero problema di queste giornate insieme alle ditte private sono intervenuti numerose arterie del territorio provinciale come sulla Monte La Battese lungo la Flaminia in Val Cesano interventi sono stati fatti sia nelle zone collinari interne che a fondo valle domenica però anche i più scettici che hanno commentato i nostri post sul sito e sui social si sono dovuti ricredere dopo aver visto la prima coltre bianca della stagione invernale in tanti poi hanno inviato alla nostra redazione scatti fotografici e video come questi girati in tutto il territorio una nevicata a tratti intensa cessata a lungo il litorale da Pesaro a Trebbia Antico Candelare e Novilare da Lucrezio a Marotta le zone interne invece sono state risparmiate come Fossombrone Cagli e Orbino nonostante il maltempo a Fano si è svolta comunque la benedizione degli animali in piazza 20 Settembre in occasione della ricorrenza di Sant'Antonio Abate durante l'iniziativa sono scesi grandi fiocchi di neve fino alla benedizione in partita da padre Silvano Bracci la stessa ricorrenza è stata celebrata anche nelle parrocchie di Tavernelle Serrungarina e a Carignano dove all'ore 9 il vescovo Trasarti ha celebrato una santa messa la quale è seguita la tradizionale processione e la benedizione degli animali oggi è tornato il sole ma le basse temperature hanno provocato gelate nelle prime ore del mattino col diretti temi che possano danneggiare le coltivazioni di verdure invernali oltre a pregiudicare le piante da frutto visto che il caldo anomalo della scorsa settimana aveva fatto gonfiare le gemme come in prefioritura nel frattempo gli operai hanno lavorato anche in mattinata per ripulire le strade dal ghiaccio che ha provocato diversi incidenti stradali ma per fortuna senza gravi conseguenze secondo gli esperti di Geometeo.it proseguirà per tutta la settimana una circolazione di aria fredda con poche precipitazioni e qualche debole nevicata fino a bassa quota tra mercoledì e giovedì in particolare nelle aree interni appenniniche saranno possibili inoltre diffuse gelate con temperature minime al di sotto dello zero e la provincia di Peso Urbino ha stanziato 200 mila euro per il piano neve che comprende l'acquisto di sale e il pagamento delle ditte private più altri 120 mila euro per eventuali emergenze il sindaco serie e l'assessore Marchegiani hanno presentato nei giorni scorsi l'anteprima degli eventi 2016 anche quest'anno non ci sarà la Fano dei Cesari ma il comune si affida a Renzo Arbore per lanciare i giorni della fortuna come sempre adesso dopo l'introduzione del calcio stai un attimo zitto perché io quando torno su di te parli perché lì dobbiamo metterci le lights dopo siamo alla pagina dello sport con il calcio il calcio di serie D domenica l'Alma Juventus Fano ha battuto 3 a 0 la Folgole e adesso passiamo al calcio di serie D con il risultato dell'Alma Juventus Fano che ha battuto 3 a 0 la Folgole riconquistando così il secondo posto in classifica a meno 8 dalla San Benedettese ora risultati e le classifiche e ora come sempre vediamo velocemente i risultati e le classifiche con le pagelle cominciamo dai risultati Folgore Veregra Alma Juventus Fano 0 a 3 Agnonese Avezzano rinviata Amiternina Matelica 1 a 0 Chieti Fermana 0 a 1 Isernia Giulianova 1 a 0 Jesina Monticelli 1 a 0 Re Canattese Vispesero 1 a 0 San Benedettese Campobasso 2 a 1 San Nicolò Castelfidardo 3 a 2 il prossimo turno vedrà impegnato in casa l'Alma Juventus Fano contro l'Isernia la classifica vede la San Benedettese testa la classifica con 48 punti seguita dal Fano con 40 a chiudere Amiternina con 17 punti insieme all'Agnonese e ultimo fanellino di coda il Giulianova vediamo subito velocemente le pagelle di Sergio Catalani Marco Antonini 8 De Iori Camilloni Lunardini Verruschi Torta Civilla Torta 7 Civilla 8 Favo Gucci 7 Borrelli 8 Marianeschi 7 e mezzo senza valutazione invece Lucerini Ambrosini e me mentre l'allenatore Alessandrini 7 e con questo chiudiamo qui il nostro telegiornale no prima di chiudere e prima di salutarci vi mostriamo queste fotografie che ritraggono Amalia Ciuccoli una signora di Montemaggiore al Metauro che venerdì scorso ha tagliato il traguardo del secolo a festeggiare i suoi cento anni sono stati i quattro figli nipoti e i pronipoti insieme a Don Achille Baldelli che ha celebrato anche una santa messa a casa della signora rimasta vedova nel 36 anni fa auguri naturalmente anche da tutto lo staff di Fano TV noi ci fermiamo qui l'informazione torna domani grazie per aver seguito Occhio alla Notizia e arrivederci Vado? Sì E adesso prima delle pagelle le classifiche i risultati come sempre vediamo gli highlights con le azioni più importanti dell'incontro di ieri È un programma ricco che punta alla cultura ma che tiene conto anche dell'aspetto popolare con il rafforzamento di alcuni eventi e l'innesto di altre novità Gli eventi per il 2016 presentati nella Sala della Concordia dal Sindaco Massimo Seri e dagli assessori Cecchetelli e Marchegiani sono frutto di un'attenta programmazione che mira ad evitare spiacevoli sovrapposizioni ed affollamenti in alcuni periodi e periodi più scarni Le novità assolute di questo programma sono la pattuglia delle fattine Wings a Fano e un nuovo contenitore denominato i giorni della fortuna che racchiude una serie di appuntamenti noti come la notte rosa e la notte dei saldi ma che saranno legati tutti dalla fanesitudine del carnevale e dalla gaiezza del jazz stile Dixieland tipo New Orleans che come un'onda travolgente invaderà non solo le zone del mare ma anche il centro storico super consulente per questo nuovo appuntamento e uno che di jazz se ne intende Renzo Arbore anche alla luce delle esperienze passate anche dagli errori che si sono commessi alla fine ci si deve sempre migliorare e Fano anche l'estate come abbiamo fatto per il periodo di Natale si caratterizzerà e diventerà al centro dell'attenzione qualificandosi Fumata nera per chi si aspettava una qualsivoglia forma di Fano dei Cesari nulla di fatto quindi per gli accesi sostenitori della Romanità gli appuntamenti tra i quali districarsi però sono tanti e diversificati e sono stati presentati strategicamente in questo periodo in cui ci sarà affluenza turistica a Fano per via del Carnevale cosa che permetterà ai visitatori e agli operatori del settore di programmarsi per tempo scegliendo il periodo che più li aggrada il Deppian esce appunto oggi in 5.000 coppie per un'immediata distribuzione funzionale al Carnevale e poi arriva fino a ottobre prossimo citando quelle che sono le 30 iniziative più importanti di una stagione che è anche più ricca evidentemente il cantiere è ancora aperto ha sottolineato in chiusura il sindaco Seri non sono stati inseriti tutti gli eventi abbiamo voluto dare un palissesto di base però aggiunge ci sono altre frecce da scoccare ed eventi da presentare ma questo lo diremo e lo faremo a tempo debito suspense e sorprese garantite quindi e adesso passiamo al calcio di serie D con il risultato dell'Alma Juventus Fano che ha battuto 3 a 0 la Folgore riconquistando così il secondo posto in classifica a meno 8 dalla San Benedettese e ora come sempre vediamo velocemente i risultati e le classifiche con le pagelle cominciamo dai risultati Folgore Veregra Alma Juventus Fano 0 a 3 Agnonese Avezzano rinviata Amiternina Matelica 1 a 0 Chieti Fermana 0 a 1 Isernia Giulianova 1 a 0 Iesina Monticelli 1 a 0 Recanatese Vispesero 1 a 0 San Benedettese Campobasso 2 a 1 San Nicolò Castelfidardo 3 a 2 il prossimo turno vedrà impegnato in casa l'Alma Juventus Fano contro l'Isernia la classifica vede la San Benedettese testa la classifica con 48 punti seguita dal Fano con 40 a chiudere Amiternina con 17 punti insieme all'Agnonese e ultimo fanellino di coda il Giulianova vediamo subito velocemente le pagelle di Sergio Catalani Marco Antonini 8 De Iori Camilloni Lunardini Verruschi Torta Sivilla Torta 7 Sivilla 8 Favo Gucci 7 Borrelli 8 Marianeschi 7 e mezzo senza valutazione invece Lucerini Ambrosini e me mentre l'allenatore Alessandrini 7 e prima di salutarci vi mostriamo queste fotografie che ritraggono Amalia Ciuccoli una signora di Montemaggiore al Metauro che venerdì scorso ha tagliato il traguardo del secolo a festeggiare i suoi cento anni sono stati i quattro figli nipoti e i pronipoti insieme a Don Achille Baldelli che ha celebrato anche una santa messa a casa della signora rimasta vedova nel 36 anni fa auguri naturalmente anche da tutto lo staff di Fano TV noi ci fermiamo qui l'informazione torna domani grazie per aver seguito Occhio alla Notizia arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.